Si è spento nel pomeriggio di venerdì 23 settembre Monsignor Alberto Durso, aveva 84 anni. L'arcivescovo di Bari Bitonto, Monsignor Giuseppe Satriano, nell'annunciare il transito alla casa del padre di Monsignor Alberto Durso, ha elevato al Signore il canto di ringraziamento per il suo fedele servizio ecclesiale e lo ha affidato alla Divina Misericordia perché gli doni il premio promesso ai servi fedeli. Il 16 maggio 1995, presso la Fondazione San Nicola e Santi Medici di Bari, insieme a padre Massimo Rastrelli, con le fondazioni anti-usura di Napoli, Roma, Matera e Torino, dette vita la Consulta Nazionale Anti-usura a San Giovanni Paolo II, il primo organismo di lotta all'usura di matrice ecclesiale. Molte altre diocesi d'Italia lo hanno seguito negli anni e oggi la Consulta in Italia conta 33 fondazioni anti-usura. Don Alberto è stato anche il fondatore della Fondazione Anti-usura San Nicola e Santi Medici di Bari. La sua missione, ricorda Luciano Gualzetti, presidente della Consulta Nazionale, di servizio alle vittime di usura, ai poveri, alle persone indebitate, proseguirà attraverso i volontari e tutte le persone che ha scagionato dalla trappola dell'usura. Girò tutte le diocesi del Paese per reclutare persone disponibili e mettersi al servizio delle persone a cui l'usura aveva tolto ogni speranza di vita. I pontefici, negli anni, ultimo Papa Francesco, hanno sempre incoraggiato e sostenuto Don Alberto. Sono passati circa 30 anni dalla nascita della prima fondazione anti-usura, un percorso che diventa storia del Paese.